A 30 anni fa, proprio dove ora sorge questa villa, ci viveva un famoso dottore con la sua bellissima moglie. Fate questo e siamo pari. Ma è un backstage, no? Sì, è un backstage di un film fornografico. Ti sei reso conto di tutto che viene girato il film? Sì, pensavo che dopo tanti anni, dopo tanti anni, tu pensi che avessi ascoltato quello che è successo. Grazie a tutti.